Ciao a tutti! Allora, volevo fare un video con un picchino di outfit per questo inverno. Ho fatto questa breve introduzione perché volevo dirvi un paio di cosini. Uno, che praticamente in questi outfit che vedrete ci sono dei capi che ho acquistato recentemente, quindi vi scriverò magari nell'info box dove vi scrivo tutte le marche dei capi, vi scriverò magari di fianco New Collection nelle cose che ho acquistato recentemente, così nel caso in cui vi piacessero o vorreste prenderle anche voi potete trovarle insomma dove le trovate io. Un'altra cosa che vi volevo dire sempre brevemente, se volete, cioè non ho mai detto una cosa che volevo vedere in tutti quanti i miei video come avete, per chi mi segue, come ho potuto notare. Se volete continuare a vedere i miei video, se volete continuare a ricevere i miei aggiornamenti, cliccate mi piace, perché come sapete YouTube ha fatto questa grandissima cavolata, per non dire di peggio, ovvero appunto che gli aggiornamenti dei video dei youtuber che voi seguite o di qualunque altro youtuber che voi seguiate non mi arrivano più nel caso in cui non mettete mi piace, nel caso in cui non partecipate ai loro video con commenti, appunto con mi piace o cose simili. Vabbè, è utile che sto qua e lungarmi più di tanto perché tante di voi lo sapranno, io l'ho scoperto recentemente e ci sono rimasta veramente male, come penso gran parte di voi, perché mi sembra una cosa stupida, perché comunque tante persone magari stanno lì a guardarsi i video facendo magari altre cose non si prendono una briga di scrivere mi piace, di scrivere un commentino a tutti quanti i video delle persone che seguono. Quindi voglio dire, cioè perché privare questa persona che non partecipa dell'aggiornamento del video di questa... del youtuber. Vabbè, mi sto impappinando, comunque sapete benissimo di quello di cui parlo e l'ho detto giusto per farvi... prendervi partecipare al fatto che mi sembra una grandissima cavolata. Va bene, quindi dopo questa introduction mi lascio i video, fatemi sapere qual è l'outfit che vi piace di più e vi mando tanti baci e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao! Ciao!